Buonasera a tutti voi che ci seguite su LibriTV, buonasera a voi che ci seguite per questa trasmissione, questa serata di trasmissione del 28 febbraio, io sono Gianni Colacione e cominciamo come di consueto con questo piccolo spazio abbastanza breve che è la virgola del direttore. Vorrei parlarvi oggi, visto che LibriTV ha dato prova, io penso, ampiamente di occuparsi di diritti, di cercare di informare a 360 gradi sui diritti delle persone che ovviamente in quanto tali, in quanto diritti non hanno cittadinanza, non hanno colori, non hanno nazionalità, sono trasversali, trasnazionali e così via. Di quanto accade, volevo informarvi, parlare con voi di quanto accade, non così lontano da noi, in Africa in questo inizio 2014. Un provvedimento del presidente ugandese che si chiama Yuweri Musaveni, pare praticamente che abbia sanzionato duramente l'omosessualità. Ora, purtroppo devo dire che in controtendenza rispetto a quello che dovrebbe essere la conquista di diritti, di eguaglianza, di libertà, rispetto soprattutto a queste cose, nel tempo, anche in altre parti del mondo, purtroppo, ci sono delle polemiche anche in Russia, con le Olimpiadi di Soce e così via, si sta assistendo purtroppo ad una involuzione per quanto riguarda appunto il diritto a poter praticare liberamente le proprie scelte libere, consapevoli, sessuali. Però, quanto è accaduto in Uganda, grazie a Yuweri di Musaveni, ha seguito un procedimento non molto lineare, che vorrei appunto andarvi a spiegare, meglio, a raccontare brevemente, ma anche perché poi, girando un pochino e cercando di informarvi, qualcuno dà anche una risposta, per cui appunto questo procedimento è stato poco lineare, cioè, praticamente, l'omosessualità pare che fosse già proibita in passato, e nel gennaio 2014, Musaveni, praticamente, pare che avesse deciso di non firmare più una legge che avrebbe appunto carcerizzato gli omosessuali. Perché? Perché praticamente sosteneva, diciamo siamo già all'assurdo, che gli omosessuali, in quanto malati, andavano curati e non era invece, praticamente, non era utile, quindi, il carcere, dovevano essere invece guariti. Qui già siamo, diciamo, all'assurdo. Quindi, cosa accade? Accade che questa iniziale convinzione, convinzione, questa iniziale posizione, tutta protesa appunto sulla malattia, omosessualità e malattia, si ribalta, perché? Perché questo presidente dà un'incarica a una commissione sanitaria locale, che praticamente, ovviamente sull'omosessualità, che gli ribalta un po' tutta quanta la questione, in un certo periodo di tempo, e quindi praticamente ribalta il concetto di malattia, praticamente, andando appunto a relazionale al presidente Museveni, che nell'omosessualità non è una malattia, ma è un comportamento anormale, che può essere appreso appunto tramite l'esperienza. E l'omosessualità, quindi poi, appunto, c'è tutta una serie di allegate, annessi e connessi, conseguenze sulla salute della popolazione, e quindi conseguentemente si arriva appunto al fatto che non deve essere quindi tollerata, perché poi peraltro c'è tutta la retorica, diciamo, dei paesi occidentali, le mollezze, le corruzione dei costumi, eccetera, e quindi la pericolosità di importare appunto all'interno dell'Uganda questi costumi, e quindi appunto sulla base di questa reazione pseudo-scientifica, il presidente appunto firma proprio, emana una legge appunto che commina una pena carceraria che può arrivare fino all'ergastolo in caso di recidiva, per quanto riguarda gli omosessuali. Ora, ci sono ovviamente all'interno di questo paese, pare che vi siano degli schienamenti un po' da una parte e un po' dall'altro, ma si è arrivati anche a delle manifestazioni piuttosto pesanti. Piuttosto pesanti perché? Perché praticamente si è arrivati addirittura alla esposizione su giornali locali, su giornali locali, di liste di presunti o reali, non sappiamo, omosessuali, con anche fotografie, quindi veramente diventa una specie di, non so, manca solo che mettano delle taglie e veramente siamo tornati al medioevo. E questo è abbastanza pesante. Ricordiamoci che in questo paese, se non vado errato, nel 2011 praticamente lo stesso giornale che Red Pepper, che appunto ha pubblicato queste fotografie, in qualche modo pubblicò un altro elenco analogo appunto, praticamente da cui poi esplose un periodo di grandi disordini e diciamo veramente omofobi, che poi culminò con la morte di un militante anche radicale che è David Cato, un attivista appunto per i diritti dei gay che fu ucciso barbaramente, veramente barbaramente. E allora che succede? Davanti a questo tipo di prese di condizioni, di prese diciamo di posizione, l'ordinamento internazionale fa le mosse che può fare. A parte le, io ormai penso superflue, dichiarazioni più o meno di disappunto del segretario delle Nazioni Unite, segretario generale delle Nazioni Unite, qualcosa di un po' più pesante è avvenuto appunto dagli USA che hanno annunciato appunto che arriveranno appunto a una revisione interna delle relazioni con il governo ugandese, perché insomma sono delle politiche discriminatorie inaccettabili queste. Però appunto come io vi avevo accennato, in apertura certo che questa specie di sanzione iniziale, annuncio di una legge che carcerizzi, poi dopo il ripensamento, poi dopo la commissione che decide, che studia e che poi dopo appunto presenta questo rapporto e quindi il ripensamento e quindi l'imposizione di pesanti pene carcerarie, per quanto riguarda l'omosessorità è un, diciamo, un andamento un po' strano. Qualcuno, leggendo in giro, ovviamente non sono fonti che io possa in qualche modo aver controllato, però può dare anche un'idea, diciamo, un'ipotesi di risposta di questo tipo di andamento e praticamente in queste zone molto spesso le organizzazioni cristiane che con la scusa del proselitismo, dell'assistenza, della cooperazione e così via cercano di espandere un pochino l'esercito diciamo cristiano nel mondo e sono anche foraggiatrici molto spesso di denaro. Ecco, questo periodo di attesa, diciamo, del Presidente è stato letto un pochino come un tentativo di rialzare il prezzo. Il prezzo di che cosa? Il prezzo praticamente che queste organizzazioni avrebbero dovuto pagare per ottenere appunto una presa di posizione molto forte contro l'omosessualità, sapendo appunto che la Chiesa Cattolica soprattutto riguarda l'omosessualità non è mai stata molto tenera e a questo punto io, in chiusura di questa mia piccola riflessione, mi chiedo se veramente queste cose, diciamo, questa motivazione è effettiva, è reale, è rispondente al vero. Chissà che cosa ne pensa Papa Francesco, che insomma, in qualche modo, ad oggi possiamo dire che per quello che ha fatto fino ad oggi non verrà ricordato certo tra i papi più oscurantisti che la Chiesa Cattolica abbia in qualche modo sfornato, tra virgolette. Detto questo, io passerei a illustrarvi il paninsesto di questa sera. Questa sera stiamo con una falcidie un po' tecnica e di salute e così via, quindi faremo una regia a staffetta. Dopo la virgola del direttore, dalla regia di Donato Volpicella che appunto lavora a tempo parziale questa serata, manderemo voci radicali registrata, una puntata di voci radicali, che sarà una conversazione tra me, che ho registrato qualche giorno fa, e Massimiliano Iervolino, che già conoscete, il pubblico di LibriTV già lo conosce, parlando di cosa? Parlando di un libro che ha scritto, dell'ultimo libro che ha scritto Massimiliano Iervolino, che si intitola Default Lazio, per infinito edizioni, e parleremo di questo libro molto interessante, ovviamente è una testimonianza di Massimiliano Iervolino, una testimonianza diciamo in questo modo veramente oculare di vita vissuta come collaboratore del gruppo consigliare della lista Bonino Pannella, nel gruppo appunto regionale regione Lazio dal 2010 all'inizio del 2013. Alle 21.15, Spazio Life, lo spazio appunto onimanista, antispecista e così via, che condotto, curato da Giovanna Devitag, avremo appunto un'intervista, qui in questo caso la regia ripasserà a me, avremo una conversazione con Claudio Pomo, avremo Giovanna intratterrà una conversazione con Claudio Pomo di Essere Animali, un'associazione di Essere Animali. Alle 21.45 in diretta, anche questo, Spazio Open Market, Economia e Mercati, commenti sull'analisi finanziaria della settimana, commenti sulla settimana finanziaria, curati da Alfredo Pauciulo. Chiudiamo l'ultima trasmissione alle 22.15, con una tavola con i libri, le consuete note di lettura di Giancarlo Calciolari. Questa sera si commenterà il libro di Luisa Muraro, Autorità, Rosberg e Selier 2013, sono gli editori. A questo punto io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ricordo che LibriTV è un'associazione che si sostenta da sola, che serve per rendere conto ogni sera, servirebbe che vi iscriveste, che ci aiutaste come idee, non solo come sostegno finanziario, sono 10 euro l'anno, è una cosa minima, molto semplice da realizzare sul sito. Io ringrazio Donato Volpicella per quello che potrà fare oggi con tutti i vari problemi che ha, vi rimando ovviamente alle trasmissioni che seguiranno, seguiranno appunto Voci Radicali, la conversazione con Massimiliano Gervolino. Vi ringrazio ancora, restituisco la linea alla regia.